Ci troviamo sulla parte sinistra del fiume Lemene, nella zona che è stata ristorata più o meno dal 1988-89 dalla famiglia Andreini prima, che dopo attraverso l'associazione Un Parco per Boldara ha trasformato questa zona che era completamente occupata dei rovi e senza alberatura e è stata restaurata per più o meno 25 anni. Questo è il tratto che è lungo più o meno un chilometro. Su questo tratto abbiamo approfittato dei statuti di questa associazione per dare un input culturale attraverso l'associazione Art in Bosco e questo Art in Bosco è ormai un punto di riferimento fotografico nella zona visto che attraverso questa associazione esponiamo degli autori che hanno la bontà di regalarci i loro file che dopo stampiamo su Forex e queste immagini di autore a livello nazionale sia che internazionale questi autori vengono esposti lungo la riva dell'Emene di giorno o di notte per tutto l'anno addirittura di notte visto che alcuni autori come Salbitani hanno voluto spingere l'originalità della visita fino a chiedere delle lampadine tascabili per vedere la mostra di notte in compagnia di una schiera di altri fotografi e di critici. Il lavoro che espongo all'interno di Art in Bosco è un lavoro sul territorio della provincia di Pordenone che va avanti da circa un anno. È una mia indagine molto personale e con delle interpretazioni altrettanto personali di luoghi facilmente raggiungibili da chiunque e che per me rappresentano anche la sintesi di ciò che offre il territorio di Pordenone vista in chiave prettamente metafisica. Il mio lavoro consiste nel realizzare queste immagini poi passando a un lavoro di post produzione attraverso il quale intervengo sulle cromie degli scatti dei file per dare un'interpretazione come a me viene da questi luoghi cercando di trasferire quello che è il trascorrere del tempo nell'arco della giornata e le varie situazioni di luce che si creano in questi luoghi sintetizzandole in un unico scatto. Il bello di questa mostra è che finalmente le persone del paese hanno preso coscienza della richiesta del territorio e delle sue capacità di attirare il pubblico e anche di poter acculturarsi praticamente. Per fortuna abbiamo avuto per questo Art in Bosco 2012 parecchi sponsor fra cui anche la regione Veneto, Lions Club locale e varie grosse ditte come l'emisfero che ci hanno aiutato a promuovere la cultura fotografica in questa zona. Devo dire che la reazione è anche positiva dal punto di vista molto pratica nel senso che le fotografie che sono a disposizione del pubblico in un luogo non protetto non sono mai state né sfregiate né rubate, perciò la gente viene e si può osservare che se la gente entra su questo percorso senza motivazione particolare ha un atteggiamento anche diremmo posso essere incivile, invece quando vedono le fotografie si vede la gente che si raccoglie, che comincia a osservare, che discute e evidentemente esce da questo percorso con qualcosa in più sia nel cervello che nel cuore perciò questa è una nostra convinzione. Grazie